... Problemi nelle procedure, comune e provincia sollevano la questione, si teme una pioggia di ricorsi. Ha abbandonato quintali di rifiuti a Rubio, un bassanese finito nei guai e con lui anche il tassista che l'ha accompagnato. Pugno duro dell'amministrazione comunale di Bassano contro l'abbandono di rifiuti, il fenomeno delle baby gang. Maxi, operazione in tutta la provincia della Guardia di Finanza, nel mirino anche locali del Bassanese e dell'Altopiano. Verso la messa in sicurezza dell'area ovest di Marostica, ma le opposizioni in consiglio comunale si astengono. Sicità, l'emergenza è sempre più alta, il presidente del consorzio di Bonifica Brenta avvisa sarà peggio del 2022. Un concorso di idee per l'ampliamento dell'IPAP di Asiago in collaborazione con l'Ordine degli Architetti. Entro l'estate funzionerà il centro ambulatoriale della medicina di gruppo di Cassola. Tombolo, insulti e minacce ai dipendenti postali denunciato un 33enne. Edizione esterale di Bassano TG, un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori. Iniziamo subito il nostro telegiornale con la questione San Lazzaro che continua a far discutere. Spuntano problemi sulle procedure e all'orizzonte c'è una pioggia di ricorsi. Il primo set di questa nuova partita sul futuro di Bassano se lo aggiudicano i cittadini di San Lazzaro. Un punto strappato con forza e tenacia da chi difende il verde e uno degli ultimi polmoni della città. La situazione però resta equilibrata perché di mezzo c'è la politica. Un equilibrio che regge sui tavoli dove si discute, un equilibrio che non c'è per l'opinione pubblica, che si è largamente espressa a favore della tutela della campagna bassanese, compresa tra Via Cartigliana, Riva Bianca e Rambolina. Ne sono prova, se di prove ancora ne servissero, le centinaia di messaggi che arrivano alla nostra redazione in risposta a una domanda ben precisa. Capannoni o campagna a San Lazzaro? Oltre il 95% ha le idee chiare e sceglie di anteporre la natura al cemento. Ma dicevamo che dopo la conferenza dei servizi, l'ago della bilancia sembra spostarsi, anche se di poco, verso i cittadini, i residenti, i bassanesi, che da mesi lottano per difendere la loro terra. Ma cosa avrebbe spostato l'ago? Diciamo che amministrazione e provincia hanno sollevato un problema riguardante le procedure con cui sono stati presentati i progetti delle ditte. Problemi di forma più che di sostanza, ma si sa, quando c'è di mezzo il pubblico, la forma conta e come. Proprio la provincia sembrerebbe essere stata più critica rispetto al passato nei confronti di quanto proposto da AGB, MEB e Brunello, e più in generale dal coinvolgimento degli sportelli unici. Il rischio è comunque che possano piovere ricorsi su ricorsi. Una partita, come detto, ancora tutta da giocare. Adesso i cittadini attendono gli sviluppi, assieme alle associazioni di categoria e ai gruppi ambientalisti. Chi la spunterà? Il matchball potrebbe essere il Consiglio Comunale che si riunirà tra 90 giorni per esprimersi su questi progetti. Potrebbe, sempre che la partita San Lazzaro non vada addirittura all'extra time, sotto un sole caldo di un giugno caldissimo. Campagna o Cappannoni? Quindi siete in tanti telespettatori che avete scritto e vogliamo darvi ancora spazio alle vostre opinioni. Quindi scriveteci via WhatsApp ai numeri che vedete in sovrimpressione o anche un'email. Siamo alla cronaca. Ha abbandonato quintali di rifiuti a Rubio. Un bastanese è finito nei guai e con lui anche il taxista che, pensate, l'ha portato a scaricare i sacchi delle immondizie. Ha speso ben 1000 euro di taxi per farsi portare avanti e indietro da Rubio per scaricare illecitamente quintali di rifiuti. È finito nei guai l'ecovandalo bassanese che ha abbandonato quintali di immondizie in questa malga. È stato il proprietario dello stabile a sporgere denunce alla polizia locale e da qui sono partite le indagini ma nessuno si sarebbe mai immaginato quello che poi è stato scoperto. È una cosa che ha dell'incredibile usare i taxi per andare a spargere i rifiuti. Abbiamo rovistato e alla fine abbiamo trovato degli elementi che ci hanno portato prima a chi ha spargere i rifiuti e successivamente lo stesso ha ammesso su come erano venuti i fatti per cui usavo i taxi. Sacchi e sacchi di pattume all'interno un po' di tutto abbigliamento, pezzi d'auto ma anche astucci di colori biancheria per la casa scarpe, mobili, maschere di carnevale. Quintali di rifiuti di tutti i tipi qualsiasi tipo pensate a qualcosa lì c'era. E nei guai sempre per abbandono di rifiuti è finita anche un'azienda bassanese di termoidraulica che ha scaricato materiale da cantiere in via Cristoforo Colombo. Lo stesso luogo scelto anche da un'impresa di pulizie che ha approfittato di un'isola ecologica privata per smaltire immondizia in modo irregolare. Gli ecovandali sono stati tutti sanzionati e dovranno dimostrare agli agenti della polizia locale di aver sgomberato e smaltito regolarmente il pattume. 600 euro di multa anche per il tassista che ha portato l'ecovandalo bassanese con il suo bagaglio di sacchi neri su e giù per le montagne. Pugno duro dell'amministrazione comunale di Bassano contro l'abbandono di rifiuti ma fermezza anche contro il fenomeno delle baby gang. L'assessore Mazzocco non ci sta stoppa l'abbandono dei rifiuti a Bassano e stoppa anche a litigi tra ragazzini risse imbrattamenti baby gang che disturbano la quiete in centro storico. Pugno duro dell'amministrazione comunale frenata solo dalla riforma Cartabia che ha aumentato il novero dei reati perseguibili soltanto dopo la querela della parte offesa parte offesa che a volte preferisce non sporgere denuncia. protagonisti spesso sono minorenni come nel caso di venerdì sera in via Portici Lunghi. Sono venuti a Diverbio un gruppetto di ragazzi con un altro soggetto che in quel momento era ubriaco siamo prontamente intervenuti con un'auto che era di servizio di ordine pubblico e un'altra aggiunta nostra e abbiamo sedato il tutto. Dopodiché i stessi soggetti si sono trasferiti in piazza Libertà se ne sono aggiunti altri due e in piazza Libertà dalle parole tre di loro sono passati alle mani dandosene di santa ragione fino all'intervento degli agenti della locale. Abbiamo identificato tutte le persone che erano sul posto trovando tra questi alcuni che avevano compiuto altri atti nei giorni precedenti. Ovvero avevano danneggiato i distributori automatici di caffè e bevande in via Marinali. Altri cinque minorenni invece sono finiti nei guai per aver imbrattato il muro di un palazzo a pochi metri dal Ponte Vecchio. Il gruppetto è stato identificato e convocato in comando in via Vittorelli. Le famiglie si sono fatte carico delle spese di ripristino del muro mentre il proprietario dell'immobile ha ritirato la denuncia. Bassanese e Altopiano nel merino della finanza. Sentite. Anche il Bassanese e l'Altopiano interessati dalle operazioni di contrasto dei fenomeni di illegalità economico-finanziaria portati avanti dalla Guardia di Finanza di Vicenza in tutto il territorio provinciale. Nello specifico multati titolari anche di un negozio di Bassano trovato in possesso di abbigliamento, calzature, accessori e materiale elettrico privi delle indicazioni delle informazioni di base e della marchiatura CE. All'Useana Conque Sarcedo multati titolari di locali per aver tenuto in funzione le slot machine fuori dagli orari permessi dalla legge. Ancora individuati i lavoratori in nero in due attività di Rosà e Bassano mentre il legale rappresentante di un negozio di alimentari di Cassola è stato sanzionato con 1032 euro perché venivano venduti prodotti con un prezzo esposto al pubblico minore di quello effettivamente praticato alla cassa. E la pulizia locale di Bassano ha identificato nove pirati della strada. Nove pirati della strada identificati e otto persone denunciate per guida in stato di ebrezza. È il bilancio della polizia locale di Bassano che dall'inizio dell'anno ad oggi ha dato nome e cognome a ben nove persone fuggite dopo aver procurato altrettanti incidenti stradali come ad esempio tamponamenti ma anche danneggiamenti di auto in sosta. Fondamentali per risalire i responsabili le dichiarazioni dei testimoni e le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Otto anche le patenti ritirate per guida in stato di ebrezza elevate sanzioni fino a 350 euro. Parliamo ora della messa in sicurezza dell'area a ovest di Marostica. Le opposizioni in consiglio comunale si astengono. Obiettivo sicurezza e scoppia la vagare in consiglio comunale a Marostica tra maggioranza e opposizione. Sul piatto l'ormai prossima riprogettazione dell'area di Via Panica un'azione indispensabile dopo i numerosi incidenti stradali anche con esito mortale che si sono verificati negli anni arrivata dopo mesi di incontri tra comune e provincia quest'ultima gestriccia della strada e nei prossimi tre anni sarà messa in sicurezza tutta l'area ovest della città. Nel dicembre del 2022 come amministrazione abbiamo stanziato la metà delle risorse e l'altra metà è stata stanziata dalla provincia di Vicenza per un totale di 800.000 euro per le prime due rotatorie che verranno giusto per spiegare ai cittadini realizzate nel campo davanti al una parte del campo davanti all'area ex ospedale vicino al parcheggio strada per intenderci dove abbiamo già fatto un primo pezzo di strada di collegamento che servirà a dare uno scarico di fatto a tutta la viabilità che cambierà nell'area con dei sensi 11 su via rimembranza insomma ci siamo o quasi perché per la realizzazione del piano di riqualificazione messa in sicurezza nel sito è stata portata in consiglio comunale la richiesta di una variante urbanistica fondamentale che è stata approvata ma con riserva sentite un po' le minoranze hanno sempre chiesto di portare avanti la volontà di mettere in sicurezza gli incroci anche in maniera molto importante ora che siamo arrivati al dunque dove si votava di fatto per mettere un vincolo con una variante urbanistica all'area per poter realizzare poi in futuro le opere i tre presenti si sono astenuti francamente lo vedo anche un po' una presa in giro nei confronti di chi gli aveva chiesto tanto in passato facendo passare quasi l'amministrazione per quella che non si interessava all'area e avesse dimenticato i cittadini in realtà poi con i fatti quando si devono votare realmente le cose le persone cambiano probabilmente idea forse per altri motivi non lo so comunque l'amministrazione va avanti stanzierà le risorse e andrà avanti sulla messa in sicurezza di tutta l'area emergenza siccità sempre più alta il presidente del consorzio Bonifica Brenta avvisa sarà peggio del 2022 come un anno fa anzi peggio parole e avvertimenti di Enzo Sonza presidente del consorzio Bonifica Brenta sulla situazione legata alla siccità in Veneto la vediamo grave la situazione per il futuro perché sappiamo che le falde non sono riemerse e i posti non sono certamente messi in un'ottima condizione si vede una crisi da un anno fa pesante però un anno fa eravamo partiti meglio di adesso è questo che ci preoccupa non è il problema della siccità che ci mette a disagio è la consapevolezza che la situazione è peggiore dell'anno scorso adesso in Veneto come noto è in vigore un'ordinanza regionale che invita i cittadini ad evitare gli sprechi d'acqua a causa del proseguire della siccità ma se la situazione di criticità dovesse perdurare il rischio di razionamenti è concreto? sì sì il pericolo c'è proprio perché non abbiamo scorte sappiamo che neve sui montagni non ce n'è quindi ci aspettiamo che il Brenta abbia le stesse portate dell'anno scorso e se queste sono le condizioni bisogna programmare bisogna pensare a come venirne fuori il meglio possibile l'acqua non c'è insomma e per questo si deve agire senza perdere ulteriore tempo realizzando delle banche dell'acqua e degli invasi che potrebbero risolvere la situazione non basta però parlarne si deve velocemente mettere mano a progetti come quello della diga del Vanoi fermo in regione da molto tempo se il bacino del collo riesce a soddisfare l'esigenza del mondo agricolo per 20 giorni il bacino del Vanoi potrebbe aumentare questo di un altro mese e quindi mettere in sicurezza tutto il fabbisogno del mondo agricolo della vallata ma non solo e saliamo in alto piano con un concorso di idee per l'ampliamento dell'IPAP di Asiago in collaborazione con l'Ordine degli Architetti un concorso di idee per l'ampliamento della casa di riposo di Asiago questa è l'iniziativa lanciata dalla struttura in collaborazione con l'Ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Vicenza e il comune di Asiago dopo aver ottenuto 800.000 euro dalla regione del Veneto e grazie a un contributo di 1.200.000 euro da parte del comune di Asiago l'IPAP si prepara un ampliamento che di fatto completerà la riqualificazione dell'ex caserma Riva l'iniziativa sarà ulteriormente valorizzata appunto da un concorso di idee che permetterà di scegliere il progettista a cui affidare un'opera che sia funzionale tanto quanto rispettosa dell'ambiente questa è una cifra che abbiamo dedicato ad una fascia importante della nostra popolazione che sono gli anziani che hanno bisogno di godere dei servizi importanti strutturati quali quelli che sa offrire questa casa di riposo e completare il polo sociale della caserma Riva vuol dire rendere sempre più all'altezza della nostra popolazione quei servizi sociali che sono fondamentali per poter garantire anche benessere e migliori condizioni di vita ad una fascia importante della nostra collettività questo intervento che si può fare dà ancora più servizi e possibilità di aiutare queste persone e familiari attraverso le palestre dei miei appartamenti eccetera è un'idea bellissima a servizio di tutto il tuo piano e dentro l'estate funzionerà il centro ambulatoriale della medicina di gruppo di Cassola nuova veste e nuova destinazione d'uso per quello che fu il comando della polizia locale di Cassola nella piazza di San Zeno iniziati i lavori da qualche settimana entro l'estate prenderà il via il servizio ambulatoriale associato della medicina di gruppo Nel 2020 abbiamo attuato dei lavori di adeguamento delle barriere architettoniche con la realizzazione della rampa e dell'ascensore interno per 98.000 euro entrando nello specifico i lavori sono fondamentalmente impiantistici parliamo di un quadro economico di 120.000 euro di cui ci sono circa 20.000 di opere edili l'impiantistica sui 50.000 e in più abbiamo un fotovoltaico da 24.000 euro partiremo con tre ambulatori più un'infermeria per cui sulla carta c'è anche la possibilità di inserire eventualmente un quarto medico però fondamentalmente ci saranno i tre ambulatori per i tre medici delle tre frazioni fondamentalmente si troveranno quindi tutti quanti qua sì qui a San Zeno che di fatto è il baricentro del nostro comune ed è proprio il sindaco Aldo Maroso che sottolinea il ruolo sociale della nuova struttura è importante fare in modo che i medici trovino facilmente un posto in cui imporre l'ambulatorio e che abbiano alcuni servizi in comune ad esempio in questo caso garantiscono non solo a tutti i pazienti di avere un medico di base sei ore per cinque giorni alla settimana ma mettendo in comune anche gli spazi una segreteria un'infermeria quindi anche tutte le utenze che possono utilizzare è un risparmio per i medici ma soprattutto una maniera per tutti i cittadini di avere un punto di riferimento preciso le difficoltà che possono avere alcuni pazienti perché sono anziani o hanno difficoltà di ambulazione di spostarsi vengono risolte perché i medici vanno naturalmente a fare anche le visite a domicilio e domani sera un nuovo incontro a Romano per parlare di donazioni tornano a Romano Dezzelino gli incontri dedicati alla donazione di organi promossi dalla locale sezione Aido domani sera al teatro parrocchiale a partire dalle 20 e 15 il direttore della rianimazione e coordinatore dei trapianti dell'Ul 7 Marco Baiocchi tratterà le novità nel campo della donazione di organi mentre la dottoressa Fiorella Cavuto parlerà dell'importanza dell'attività fisica nella prevenzione e nella riabilitazione cardiologica il teatro Remondini di Bassano è pronto ad ospitare il fascino dei più famosi musicals questo è il primo spettacolo che abbiamo deciso di organizzare proprio come teatro Remondini perché abbiamo deciso di provare a intraprendere un percorso con una direzione artistica del teatro direzione artistica a firma del teatro Remondini una prima volta che segna una svolta per il teatro di via Santissima Trinità pronto per una nuova avventura ad aprire il sipario infatti venerdì 17 marzo i Muffins una giovane compagnia teatrale nata nel 2015 dall'incontro di tre attori Riccardo Sarti Giulia Mattarrucco Maddalena Luppi e il cantautore bolognese Stefano Colli questa sarà questa sarà anche una sorta data zero per loro perché il vero tour comincerà dopo l'estate al Manzoni di Milano come prima data e appunto nel periodo appena dopo l'estate uno spettacolo che porterà sul palco note di famosi musical oltre che grandi storie d'amore una data zero questa non solo per la compagnia teatrale ma anche per il teatro Remondini è già uno spazio in cui ospitiamo diverse realtà però vogliamo anche trovare una nostra identità come teatro e quindi vogliamo provare a intraprendere questa strada bisogna darsi la possibilità di provare nuove strade ed ora vediamo altre brevi notizie del territorio sarà presentato a Riese Pio Decimo martedì prossimo 21 marzo nella sala riunioni del centro sociale di Vallà il progetto per la realizzazione della nuova piazza della frazione inizio alle 20.45 l'associazione Papa Luciani e l'assessorato ai servizi sociali di Mussolente propongono i soggiorni climatici per anziani a Rimini sono aperte le iscrizioni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17 all'ufficio servizi sociali giornata di festa Romano Dezzelino con la consegna nella palestra di Fellette dei bonus Romano Cresce dedicati alle famiglie dei nuovi nati del comune nel 2022 94 i bonus consegnati a 48 bambini e 46 bambine per un importo totale di 27.100 euro insulti e minacce ai dipendenti postali è stato denunciato un 33enne mattinata ad alta tensione nell'ufficio postale di Tombolo un uomo di 33 anni di cittadella ha cominciato ad urlare e minacciare i dipendenti costretti a chiamare i carabinieri per allontanarlo il 33enne si era presentato all'ufficio postale di Tombolo qualche minuto prima dell'apertura era visibilmente agitato e pretendeva di accedere al servizio una volta entrato ha cominciato subito ad offendere e minacciare il personale che stava cercando la sua raccomandata in giacenza i dipendenti visto che l'uomo non si calmava hanno chiamato i carabinieri anche davanti ai militari il 33enne ha dato in escandescenza e per questo è stato denunciato per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale prima serata con il nostro direttore Luigi Bacialli a Focus ospiti questa sera saranno Anna Maria Bigonna e Bottero Leopoldo Luciano Dorella Giancarlo Iannicelli Enrico Scacco Michele Tualdo e Silvia Tonolo continuiamo il nostro telegiornale con i vostri sms sempre sul tema di San Lazzaro e poi le previsioni del tempo di domani grazie a tutti voi di essere stati in nostra compagnia buona serata grazie a tutti grazie a tutti